Grazie e benvenuti in un nuovo video. Eccomi qui per il mio pensiero riguardante la finale di Conference League da Fiorentina e West Ham. Prima del match mi aspettavo che i Viola potessero portarla a casa ma che il West Ham avrebbe giocato una partita molto buona dove avrebbe tenuto il pallino del gioco e avrebbe messo molto in difficoltà la squadra italiana. Invece non è stato minimamente così perché durante la partita ho visto quanto la Fiorentina abbia giocato bene e abbia confermato il buon gioco che ha dimostrato in tutto questo campionato. Una Fiorentina che ha saputo tenere benissimo il pallino del gioco, che ha saputo gestire perfettamente ogni fase del gioco, che ha giocato molto bene in fase difensiva e soprattutto a centrocampo, un po' meno in attacco perché sono mancati i tiri. Ma il West Ham non ha giocato all'inglese, ha giocato come si gioca in Italia o in Spagna, ovvero molto difensivamente con la speranza di ripartire in velocità. I giocatori per ripartire in velocità ce li ha perché comunque Bowen è un giocatore che corre molto, Berramà altrettanto, Pablo Fornals con l'Antonio tutto sommato non è lento, però ha giocato un po' come la Juve il West Ham perché si è difesa tutto il tempo con la speranza di ripartire. E sinceramente per come ha giocato la Fiorentina meritava di vincere. Io ho visto la partita con la sciarpa della Fiorentina e speravo di portarle fortuna ma evidentemente non sono bastato perché comunque è stata sfortunata considerando che a fare la differenza non sono stati i nomi che comunque sono diversi tra le due squadre. Se si prende la rosa soltanto e non si calcola il gioco, non si calcola nient'altro, la squadra che avrebbe dovuto vincere sarebbe stata sicuramente l'West Ham, considerando nomi di spicco come Declan Rice su tutti, ma anche Areola in porta paragonato a Terracciano, o Bowen, gran giocatore sottovalutato per me, Michael Antonio che è uno più abituato a giocare le competizioni europee, non tanto di Jovic, forse anche di Jovic ma sicuramente di Cabral. E altri giocatori come Paquetà che sta facendo una stagione buona all'West Ham e forse un po' meno la difesa anche se c'è qualche nome interessante. A livello di squadra di rosa e soprattutto anche per le riserve che ha l'West Ham sicuramente è un passo in più la squadra inglese, però a livello di gioco ha dimostrato molto di più la Fiorentina e avrebbe meritato molto di più. A fare la differenza sono stati gli episodi. Il calcio è strano, la palla è tonda come si suol dire e molte volte, non a volte solo, molte volte vince anche chi non lo merita. Ed è successo alla Roma che secondo me non meritava di perdere con il Siviglia, per quanto il Siviglia un tempo ha tenuto la Roma nella propria porta, nella propria area di rigore praticamente, però in generale non meritava secondo me di perdere la Roma ma soprattutto la Fiorentina oggi. Mi dispiace perché le possibilità che l'Inter porti la Champions a Milano sono basse, io lo spero con tutto il cuore e sicuramente erano più accessibili le altre due finali per le italiane che quella di Champions e ahimè le hanno perse entrambe. Mi dispiace veramente tanto per la Fiorentina perché soprattutto per un giocatore, un giocatore che ammiro tanto, che mi piace dai tempi dell'Atalanta, da tanti anni, ovvero Giacomo Bonaventura che peraltro ha fatto un gran gol. Però appunto a decidere sono stati gli episodi, un calcio di rigore che c'era, per carità, per il regolamento c'era, però per gli stessi motivi il fatto che comunque l'intenzione di spostare la mano, così come Biraghi, in realtà l'aveva fatto il giocatore del Siviglia nella partita con la Roma, quel rigore non è stato dato, questo rigore è stato dato. In un certo senso è sbagliato, indipendentemente da me e dal mio pensiero, secondo me è oggettivamente sbagliato che il giudizio vada troppo influenzato, sia troppo influenzato dal parere dell'arbitro perché se Taylor ha sbagliato e invece l'arbitro di oggi di cui non ricordo il nome ha fatto bene, può essere così come può essere il contrario, ma in generale ci dovrebbe essere un metro di giudizio che sia abbastanza oggettivo perché in determinati casi si può fischiare il rigore e in determinati altri no. Per carità i rigori erano diversi, i modi erano diversi, però tutto sommato neanche così tanto, questo rigore io non l'avrei fischiato considerando il fatto che Biraghi aveva allungato la mano per prendere posizione, quindi quando lui ha allungato la mano Boven ha stoppato la palla di petto e la palla ha toccato la mano di Biraghi, che è vero si è aiutato nell'intervento grazie alla mano, però non poteva farla scomparire e per questo motivo non avrei fischiato il rigore. Ma in generale il West Ham ha vinto così, con un rigore di un giocatore come Berramà, che sulla carta è un ottimo giocatore, ma che non ha toccato un pallone, ha giocato malissimo, è stato ipnotizzato per tutta la partita, però poi ha segnato il rigore. E poi Boven, che forse l'attaccante più talentuoso, uno dei giocatori più sottovalutati del West Ham, un giocatore che ammiro tanto, che è sempre stato esperto nel movimento tra i difensori, movimento in profondità. Una palla a caso buttata avanti, come a caso premendo il triangolo a FIFA. Ecco, da Paquetà e Boven in velocità ha fregato Igor e ha chiuso la partita al novantesimo. Dispiace veramente tanto però, appunto, per Buonaventura soprattutto, perché è un giocatore che ha vinto solo una Coppa Italia, se non sbaglio una Supercoppa italiana, comunque non ha vinto niente di che in carriera e che avrebbe meritato tanto. Un giocatore che ammiro tantissimo, peraltro ho preso a tutte e tre i fantacalci quest'anno, e che mi aveva fatto esplodere di gioia quando aveva segnato. Un'altra cosa che mi ha sconvolto è il fatto che il re delle Coppe in assoluto, colui che è stato in grado di vincere 5 competizioni europee su 5, l'unico, per ora il primo comunque, a farlo è Emerson Palmieri, quando ci si aspetta grandi nomi alla fine si vede che Emerson Palmieri, giocatore buono, però niente di più, che ha vinto non solo l'Europeo con l'Italia, la Champions League con il Chelsea, l'Europa League con il Chelsea, la Conference oggi con il West Ham e la Supercoppa europea, se non sbaglio, sempre con il Chelsea. Comunque ragazzi, fatemi sapere la vostra, se vi è dispiaciuto anche a voi per la Fiorentina, e ci vediamo come sempre nel percorso.